Il tema di oggi, situazione del mercato immobiliare negli Stati Uniti al 17 giugno 2021, in realtà andiamo a vedere un po' quello che è successo nel primo trimestre. Normalmente noi partecipiamo a una survey con i più grandi operatori negli Stati Uniti e escono fuori dei dati che appunto oggi andiamo un po' a vedere. Modalità di svolgimento come al solito, la durata della presentazione sarà circa 40 minuti, di cui io mi prenderò circa 30 per appunto parlare di un po' di dati e andare a vedere un po' le previsioni di mercato. Poi una decina di minuti saranno lasciati per l'intervento della nostra Realtor e poi anche per le domande, abbiamo tempo insomma per domande e risposte. Vi chiedo di mantenere i microfoni su mute in modo che riusciamo a mandare avanti la presentazione in modo scorrevole, qualsiasi domanda utilizzate la chat per inserirla in modo che poi quando lasciamo lo spazio finale per le risposte andiamo a rispondere a tutto. Che dire? Ah, qualsiasi argomenti di vostro interesse o se volete dare feedback rispetto a questa presentazione sentitevi liberi di farlo mandandoci un'email o attraverso la nostra pagina Facebook eccetera, avete tutti i contatti. Questi saranno i contenuti della breve presentazione di oggi. Perché? Andiamo a fare un'analisi del mercato, quali sono le motivazioni che ci sono dietro, poi andiamo a vedere un po' ricalcando quello che è già stato fatto nella presentazione precedente di circa, che era di febbraio, relativamente alla chiusura dell'ultimo trimestre del 2020. Facciamo una piccola introduzione su quali sono i cicli di mercato, qual è la situazione macroeconomica e poi entriamo nel merito di qual è lo stato del mercato attuale e le proiezioni e poi dopo faremo una chiacchierata anche con la nostra rialtora Anastasia che poi vi presenterò a breve e lasciamo poi lo spazio finale per le domande come detto prima. Perché? Perché facciamo questo tipo di analisi e l'importanza di fare un'analisi di mercato quando si opera come investitori sul mercato immobiliare? Conoscere i mercati locali per indirizzare le risorse in modo efficace e sicuro e poi essere in grado di anticipare i movimenti di mercato. Questo ci permette di scegliere le strategie più adatte al ciclo di mercato in atto e di abbassare appunto al minimo i rischi. Questa immagine qui ormai è diventata un po' il simbolo, la usiamo spessissimo anche nella presentazione precedente. Quando andiamo a parlare di rischi prendiamo sempre a riferimento questa immagine che un po' rappresenta come sia importante avere delle basi solide, delle fondamenta solide e anche quando intorno sembra che tutto crolli e si rimane in piedi. Uno degli elementi fondamentali affinché si possa avere una base solida in un business, in particolare in un business che si occupa di investimenti, è quello di fare proprio l'analisi di mercato motivo per cui siamo qui oggi per condividere un po' insieme questi dati. Parliamo dei cicli di mercato, questo è una rappresentazione ideale di un ciclo di mercato, come vedete c'è la prima fase che è la fase di recovery, recupero dei valori di prezzo. Man mano che si espande il mercato si va nella fase due che appunto è quella di espansione, si arriva a un punto in cui l'offerta comincia ad eccedere la domanda e quindi quella fase tre che viene chiamata iper supply per poi passare all'ultima fase che è quella della recessione, quella che ci piace un po' meno, anche se poi conoscendo il mercato si può fare profitto da tutte e quattro queste fasi. Mi piace sempre far riferimento a un detto che si usa sul mercato delle azioni, il mercato azionario, si dice che il mercato sale per le scale e scende dalla finestra, di cui anche l'importanza di essere in grado di identificare sempre attraverso l'analisi di mercato quale possa essere il momento in cui ci sono elementi che fanno pensare all'inversione di mercato in modo da essere pronti a cambiare strategia e a gestire il rischio appunto. Andiamo a vedere qualche esempio di crisi nella storia, questo grafico qui è un grafico semplificato del numero di immobili in costruzione, praticamente rappresenta un pochino, quando vediamo un calo rappresenta appunto momenti di crisi, di recessione. Dal 1970 a oggi ci sono state vari momenti di crisi, uno di questi il primo appunto è dal 1972 circa al 75, quali sono stati gli elementi che hanno scatenato poi la crisi? Qui andiamo a vedere degli esempi e lo vediamo in modo abbastanza semplificato di quali possono essere appunto degli elementi che influiscono sull'andamento dei valori. Tassi di interesse sui mutui che a un certo punto salgono da 7,5% al 10%, tasso di disoccupazione al 9,5%, questi due elementi scatenano una crisi che è durata circa tre anni. Successiva crisi, prezzo del petrolio salì repentinamente a 80 dollari al barile, qui parliamo degli ultimi anni 70, inizio anni 80, 80 dollari al barile insomma parliamo di una cifra che a suo tempo era estremamente elevata, un'inflazione che supera l'11,5% che di questi tempi sembra quasi impossibile, anche se vedremo che poi non è così impossibile per altri elementi, tassi dei mutui che superano il 17%, questo proprio fuori da quello a cui siamo abituati negli ultimi 20-30 anni, e disoccupazione che per gli Stati Uniti in doppia cifra 10,8% era estremamente elevata. 1986-1990, un'altra crisi, questa è una crisi molto forzata da delle polisi del governo, hanno cancellato benefit fiscali specialmente nell'ambito del real estate, polisi che limitavano la possibilità di accesso al credito, quindi più difficoltà di accedere ai mutui e quindi conseguenza minor possibilità di acquisto. Contemporanea crisi dei prezzi del petrolio che per un'economia come quella degli Stati Uniti influenza molto l'occupazione, quindi una forte disoccupazione, ulteriori tagli della spesa pubblica, in particolare sulla difesa e questo ulteriore spinta alla disoccupazione che ha prodotto questa crisi. Poi arriviamo alla famosa crisi del Muti Subprime e qui sappiamo più o meno quello che è successo, apriamo una parentesi poi su quali sono effettivamente gli elementi che influenzano direttamente l'andamento di mercato e poi a loro volta sono influenzati da tanti altri elementi, possono esserlo come abbiamo visto da tanti elementi macroeconomici. In modo diretto i valori di mercato sono influenzati dalla domanda, dall'offerta e dalla capacità di investimento. La domanda, semplificando molto la definizione, è quante persone necessitano di acquistare un immobile. Definizione semplificata per comprendere qual è l'andamento della domanda in un determinato momento, il parametro che guida maggiormente la domanda è proprio la crescita della popolazione adulta. Se andiamo a prendere i dati economici, il dato che ci dà appunto più correlazione diretta rispetto alla domanda appunto è la crescita di occupazione. Questo è un grafico che mostra appunto la crescita di occupazione negli Stati Uniti tra il 1985 e il periodo della crisi subprime, demotis subprime e vediamo che normalmente è sempre in crescita ma ci sono dei momenti in cui è evidente la crisi dei posti di lavoro. Questo è un indicatore appunto molto molto accurato per comprendere quant'è la spinta sulla domanda. L'offerta, ossia quanti immobili sono disponibili sul mercato. Uno degli elementi appunto che è sempre da considerare è anche il discorso della sovracostruzione, dell'eccesso di costruzioni. Questo appunto aumenta eccessivamente l'offerta e se è sbilanciato rispetto alla domanda può produrre diciamo una bolla, un crollo dei prezzi. Nel 2001 cosa succede? Che c'è il collasso del mercato azionario e la bolla delle tecnologiche e cosa fa la Fed al fine di attenuare la recessione che è derivata da questa problematica nel mercato azionario? Ha abbassato i tassi di interesse e di conseguenza anche il costo dei mutui. Nel 2002 circa ci si aspettava una correzione dei prezzi di mercato sull'immobiliare e questa azione della Fed, cioè di diminuire i tassi, ha fatto sì che in realtà il mercato continuasse a salire nonostante l'aspettativa di correzione. Cosa è successo? Che a un certo punto hanno realizzato che effettivamente questi tassi bassi stavano alimentando una bolla. Nel 2005 alzano i tassi, è troppo tardi perché ormai si è scatenato un aumento dei prezzi. Questo è appunto l'andamento dei prezzi sul mercato di San Diego che più o meno, diciamo, con le dovute proporzioni si è manifestato un po' su tutti i mercati. Ulteriore elemento nella crisi dei mutui subprime è stato quello delle regolamentazioni delle banche che appunto davano mutui con una documentazione reddituale minima o anche nulla spesso e con un down payment che nella maggior parte dei casi era anche zero, quindi 100% sul valore del mutuo, spesso anche oltre. A un certo punto si è manifestata la bolla e questo è quello che è successo. Tantissimi immobili in vendita perché, pignorati dalle banche, un eccesso di immobili in vendita, quindi di offerta rispetto alla domanda e chiaramente di conseguenza un crollo dei prezzi. Capacità di investimento, quello è un altro elemento che abbiamo visto tra i tre elementi diretti che influenzano appunto l'andamento dei prezzi. Può avere anche molta domanda, ma l'elemento essenziale è che le persone devono essere in grado di permettersi l'acquisto dell'immobile. Come vedete qui i prezzi, questo è il rapporto, questo grafico rappresenta il rapporto tra il costo degli immobili mediano rispetto al reddito medio. Come vedete nel periodo pre-crisi siamo andati a dei valori tra il 70 e l'80% che rendevano insostenibili il mercato. Normalmente i valori medi dovrebbero stare, i valori normali tra il 40 e il 50%. Situazione macroeconomica. Vi andiamo a vedere velocemente quello che è stato fatto poi a seguito della crisi pandemica che c'è stata nell'ultimo anno e mezzo circa. Abbiamo visto per l'altra volta tante azioni da parte del governo in modo da stimolare l'economia, i famosi stimulus plan, tra i vari il PPP loan che è stato un supporto alle società al fine di pagare le buste paga dei dipendenti. Poi c'è stato questo stimulus check che è stato un assegno dato a tutte le persone individualmente, 1200 dollari adulti, 500 per i bambini che poi è stato pure replicato poi successivamente. Un supporto alla disoccupazione, quindi chiunque veniva, insomma veniva licenziato a seguito della pandemia, oltre a ricevere la disoccupazione normale, ha un supporto in più di 300 dollari a settimana. Moratoria sui mutui, sui prestiti da studenti, moratoria sui mutui e addirittura anche avevano interrotto la possibilità di effettuare sfratti, quelle che vengono chimate addiction. Successivamente, questo era quello che abbiamo visto l'altra volta, a termine dell'ultimo trimestre del 2020, 2021 subentra il nuovo governo, sappiamo tutti, e c'è un ulteriore stimulus package da 1900 miliardi, quasi difficile da immaginare una cifra del genere, che ulteriormente è andata a supportare l'economia in vari settori, tra cui addirittura per farvi un esempio, noi abbiamo ricevuto assegni a compensazione di eventuali affitti, di affittuari che appunto erano in ritardo con pagamenti nell'ultimo anno, da marzo scorso. Quindi abbiamo recuperato eventuali debiti con qualsiasi inquilino ma direttamente con il governo. Praticamente questa è l'immagine che un po' rappresenta quello che è successo, helicopter money, tra l'altro utilizzato come rappresentazione proprio di questo mettere liquidi sull'economia al fine di sostenerla in situazioni particolari come quella dell'ultimo anno e mezzo. Rapporto tra debito e reddito, per assurdo, nonostante si potrebbe immaginare diversamente, magari un anno fa quando ancora cercavamo di capire cosa stava succedendo, è diminuito sensibilmente ed è mantenuto su dei valori normali che è intorno al 15%. E questa è proprio la composizione del debito e come vedete c'è una tendenza a diminuire, questo è aggiornato a ottobre 2020, in realtà ulteriormente è diminuito. Come è stato il recupero dell'economia? Qualcuno parlava di un recupero a V, qualcuno un recupero a U, poi alla fine è stato un recupero a K perché a seconda del settore ci sono state settori che hanno recuperato molto velocemente, sono andati anche ben oltre quella che era la condizione precedente alla pandemia, altri settori che purtroppo invece sono rimasti colpiti e continuano a subire diciamo la situazione. Chiaramente tra quelli che hanno recuperato in miglior modo sono i tecnologici, il software, direi anche insomma tutto quello che è inerente al sanitario eccetera. Tassi dei mutui sotto il 3%, la Fed ha forzato i tassi dei mutui al di sotto del 3%, anche questo ha comportato appunto un sostegno al mercato immobiliare, qui si può notare come questa è la rappresentazione degli asset della Fed, ha comprato più di 3 mila miliardi da inizio pandemia a oggi di buoni del tesoro e altri asset, proprio al fine di sostenere l'economia. Tassi fissi dei mutui a 30 anni, questa è la previsione, cioè parliamo di tra un 3,10, appunto intorno al 3%, tra poco sotto il 3 e il 3,10 appunto. La stima continua a essere di questo tipo sia per analizzando i futures sui buoni del tesoro, sia rispetto alle dichiarazioni fatte dalla stessa Fed, ci si aspetta appunto che i tassi si mantengano in questo range, quindi molto basso, molto bassi. Queste polisi del governo cosa hanno fatto? Hanno aiutato consumatori e aziende al fine di pagare debiti, pagare affitti, pagare mutui, ritardare il pagamento su presto dei studenti e addirittura mettere da parte denaro proprio anche tra le varie per l'acquisto di immobili. In particolare i tassi poi così bassi dei mutui hanno permesso una spinta ulteriore dei valori degli immobili verso l'alto. Qual è lo stato attuale? Andiamo a vedere un pochino il mercato degli affitti in particolare e questo è a livello nazionale, questi sono degli indici, tutti questi valori che vediamo adesso sono indici e valori determinati da una survey effettuata con la John Burns Real Estate Consulting che è una società che si occupa di survey a livello nazionale negli Stati Uniti e si occupa di farlo con operatori diciamo di alto livello e fornisce queste survey a società importanti come Undipot, Lowe's e anche banche come Bank of America eccetera. Questi sono degli indici calcolati da loro rispetto a, qui ne vediamo 4, l'espansione o la contrazione del mercato, il primo grafico questo qui, espansione o contrazione del mercato degli affitti. In questo caso come vedete l'andamento è estremamente elevato, questi sono degli indici 90,3 adesso non entriamo nel merito ma come vedete l'andamento è estremamente a rialzo, specialmente poi paragonato al primo trimestre del 2020, quindi di un anno fa. L'attività di affitto, sempre a livello di indici, come vedete l'andamento è estremamente a rialzo e l'accupancy, quindi quanto effettivamente gli immobili sono occupati da inquilini è estremamente elevato anche qui, specialmente in paragonato a un anno fa e l'aspettativa di attività nel mercato degli affitti pure è estremamente alta. Questi sono il cambiamento anno su anno, quindi un anno fa, da un anno fa a oggi un 6,1% di aumento degli affitti con un affitto mediano di 1.741 dollari. 71% sono i range di affitto, quindi il 71% degli affitti va da 1.250 dollari a 2.000 praticamente, quindi gran parte della massa più grossa è proprio in questa fascia che tende a spingere sempre più verso l'alto. Come vedete nella fascia sotto i 1.250 dollari ne mancano pochissimi. Questa è la percentuale per paragonare, blended 6,1% è il dato che abbiamo visto prima che è il collettivo, invece new leases, cioè nuovi inquilini hanno un aumento medio dell'8,7% rispetto all'anno precedente, 5% per quanto riguarda i rinnovi di inquilini esistenti. Normalmente lì i contratti di affitto sono di un anno, quindi facile fare questo tipo di paragone. Ogni anno c'è circa un 5% di aumento su il rinnovo e invece sui nuovi inquilini 8,7. Motivo per cui tra l'altro gli inquilini tendono a rimanere e a tenersi l'immobile dove stanno, proprio perché come cambi tende ad avere affitti particolarmente più alti. Questo è appunto l'andamento degli aumenti degli affitti, ogni trimestre paragonato al trimestre dell'anno precedente, come vedete è sempre stato in aumento e addirittura adesso siamo arrivati a un picco del 6,1% rispetto al trimestre dell'anno scorso. Operating expenses, quindi i costi operativi per gestire gli immobili in affitto, questo è quanto hanno riportato i vari operatori, quindi 0% di differenza rispetto allo scorso anno nelle spese operative, il 15% degli operatori, tra l'1 e il 5 e il per cento e così via, e il 19 addirittura al 19% riporta di aver diminuito le spese operative di gestione del più del 10%. La media di tutto questo è lo 0%, come vediamo qui, questa slide successiva, che va a fare questa slide, andiamo a paragonare praticamente l'aumento di affitto con la variazione sugli affitti con la variazione dei costi operativi per la gestione degli affitti degli immobili stessi e come vedete già da qualche trimestre si manifesta sempre una forte differenza a favore dell'aumento degli affitti paragonato diciamo a delle spese di gestione che più o meno rimangono stabili o addirittura negative per quanto riguarda il primo trimestre dello scorso anno, comunque a favore diciamo di un aumento dei valori di entrate nette per gli operatori. Andiamo a vedere le attività riportate da appunto, questo è l'indice che abbiamo visto prima nella sintesi iniziale, è dato proprio da una serie di fattori e qui sono rappresentati, questa è come, cosa riportano gli operatori rispetto all'attività che c'è sugli affitti paragonata a un anno fa, stesso trimestre dello scorso anno e il 61% riporta molto, un'attività molto più forte, 28% un'attività più forte, solo l'11% circa lo stesso tipo di attività, nessuno, 0% un'attività minore, quindi praticamente se vedete i report degli anni precedenti non c'è mai stato un caso in cui nessuno avesse riportato un'attività minore insomma, è il primo trimestre di questo tipo particolarmente forte. Questa invece è l'aspettativa, sempre questo è l'indice che calcolano e qui andiamo a vedere che pure riguardo all'aspettativa addirittura è più forte, parliamo di più del 91% che ha un'aspettativa di vedere un mercato forte o molto più forte rispetto a quello che è stato l'anno precedente, per i prossimi sei mesi. Per quanto riguarda l'occupazione invece degli immobili, pure qui il 66% riporta un aumento dell'occupancy, nonostante già partiamo da valori molto elevati, poi andiamo a vedere quali sono, un 66% addirittura riporta un aumento e solamente un 6% una diminuzione dell'occupancy, quindi di quanti immobili hanno affittati rispetto al volume totale che gestiscono. questo è quanto è stato riportato, quindi il 46% degli operatori in gran parte riportano un occupancy tra il 97 e il 98% e addirittura chi riporta il 100% abbiamo una media del 97,4% di occupancy, come vedete, sempre in aumento negli ultimi trimestri e parliamo di dati che sono al picco storico, insomma parliamo di 97,4% abbiamo liste di attesa per gli affitti incredibilmente, ogni volta che c'è un immobile libero quasi istantaneamente c'è una fila di 10 persone, è incredibile. questo è l'aspettativa, no scusate, qui è stato richiesto agli operatori di riportare quanto tempo è necessario per rioccupare l'immobile e come vedete il 77% riporta minor tempo rispetto a un anno fa per trovare inquilino ed effettivamente è qualcosa che stiamo riscontrando pure noi perché non molisse di attesa come dicevo prima. questa è l'aspettativa dei rendimenti su tutto il territorio degli Stati Uniti, poi qui si può entrare nel merito di alcuni, diciamo alcune location che hanno delle aspettative più basse, qualcuna più alta, comunque parliamo di un'aspettativa media tra il 5 e il 5,4% di cap rate su un immobile stabilizzato, cosa si intende per questo? Il cap rate qui magari diventa complesso andare a spiegare proprio nel dettaglio ma comunque per sintesi sarebbe l'aspettativa di rendimento netto sull'investimento su un immobile, quindi tra un 5 e un 5,4% di aspettativa degli operatori. Proiezioni, allora questo è il rapporto tra il valore medio dell'immobile e l'income, il reddito medio. Più o meno ci troviamo a dei livelli che sono simili a quelli del 2005. Qual è l'aspettativa? Questa appunto viene proprio calcolata da John Burns Real Estate Consulting, ci si aspetta che continui a crescere questo rapporto ancora per parecchio, parliamo dei prossimi tre anni. Per quale motivo? Vista così se paragonata al 2005 potrebbe sembrare che non siamo molto lontani da questo picco qui. In realtà andando nella slide successiva vediamo qual è il principale motivo per cui l'aspettativa è ancora parecchio elevata. Questo qui è il rapporto tra il valore dell'immobile, scusate non il valore dell'immobile ma il pagamento per poter acquistare l'immobile, il pagamento della rata di mutuo rispetto al reddito medio. A questo punto vediamo che ci troviamo a dei livelli di basso rischio, la media dal 1985 a oggi è intorno al 29%, ci troviamo addirittura un peletto sotto e questo forzato anche dal fatto che i tassi di interesse sono molto bassi, quindi andiamo a vedere come effettivamente la capacità di investimento, quella che abbiamo visto prima, va a influire proprio la potenzialità di crescita del mercato. Ci troviamo in una situazione di basso rischio perché appunto un rapporto che è addirittura sotto la media storica. Se andiamo a vedere cosa è successo prima della crisi dei muti subprime, siamo arrivati a valori che erano quasi al 40%, adesso ci troviamo sotto il 29%. Andiamo a paragonare questi due grafici e vediamo appunto che questa crescita è sostenuta proprio da questo andamento del rapporto tra il pagamento per acquistare un immobile e il reddito. Andando a fare una sintesi della situazione, i tempi medi degli immobili sul mercato sono scesi a minimi storici, addirittura 17 giorni mediamente sul mercato. Questo in particolare dato dal fatto che la domanda è estremamente elevata, l'offerta è estremamente bassa e quindi come qualcosa va sul mercato tende ad essere acquistata velocemente. Il 76% degli immobili vendono sotto i 30 giorni, quindi diciamo un anno fa era il 46%, siamo saliti tantissimo, il numero di immobili che entro 30 giorni viene venduto. I costruttori vendono molto più velocemente di quanto ci vuole per costruire, l'offerta dei nuovi immobili immobili rimane molto bassa, questo anche dovuto al fatto che i prezzi dei materiali stanno salendo parecchio e quindi diventa un po' difficile riuscire a costruire con margini, quindi una serie di componenti fa sì anche che non ci sono molti nuovi immobili sul mercato e praticamente la bidding war, quindi la guerra per raggiudicarsi un immobile sta diventando quasi una normalità. Normalmente la media di offerte ricevute per la vendita è salita addirittura al 3,6% per immobile che è altissima contro circa l'1,9% di un anno fa. Un indice di confidenza degli investitori e dei consumatori è esageratamente elevato e tutti gli indici macroeconomici che appunto ci fanno pensare come abbiamo visto che possa continuare questa spinta verso l'alto, in particolare i tassi di interesse che rimangono molto bassi. Questa è proprio la previsione, in realtà questa previsione è stata fatta a inizio 2021 da parte sempre di la John Burns Reasset Consulting con dei dati accurati che in realtà adesso sono già stati superati, però ecco loro avevano previsto per quanto riguarda gli affitti per il 2021 il 3% di aumento, il 3,3% per il 2022 e il 3,7% per il 2023 e sui valori degli immobili sempre in crescita per i prossimi tre anni in modo invertito, quindi una forte spinta per il 2021 addirittura all'8,1%, il 6, il 4,9% per il 2023. Questi calcoli sono stati fatti con delle assunzioni, cioè le principali quattro assunzioni sono che ci sia una continua crescita economica, cosa che in realtà stiamo vedendo negli Stati Uniti perché è molto ripresa l'economia, che continuino a essere bassi i tassi di interesse, come abbiamo visto la previsione è che continuino ad esserlo per i prossimi tre anni e una modesta, cioè loro nelle varie assunzioni le seconde due, la terza e la quarta sono diciamo di limitazione dei prezzi, nel senso che si aspettano che incominciano a esserci un po' di pignoramenti e che si riduca un pochino l'euforia che c'è sul mercato. Questi due elementi nel caso in cui non ci fossero in realtà farebbero aumentare ancora di più le previsioni appunto. A questo punto io vorrei presentare Anastasia Bizzarri che è la nostra realtor per quanto riguarda quelle che vengono chiamate le disposition, ogni volta che andiamo a mettere sul mercato immobili ristrutturati a seguito di fix and flip è Anastasia a prendersene cura e lei inizia la carriera nel mondo della finanza e del marketing a New York, poi negli ultimi dieci anni è entrata nel mondo del real estate, penso che se ne sia innamorata perché lo fa con una passione incredibile, lei è broker immobiliare, oltre a quello è stage, interior designer, master gardener, tra l'altro ha certificati universitari, non è che sono quei certificatini così, è bravissima oltre ad avere le certificazioni è fenomenale nel lavoro che fa, lo fa con passione e lascio la parola a te Anastasia e lascio pure il controllo delle slide se vuoi condividere perfetto perché so che ce l'hai preparato sì certo certo, innanzitutto volevo veramente farti complimenti Daniele perché quello che tu hai detto non solo è molto comprensivo di tutto uno stato economico qui negli Stati Uniti, molto accurato e soprattutto molto comprensibile per cui hai proprio fatto il sunto di ore e ore di CNBC, Financial Times, The Wall Street Journal e più ne hai più ne metta per cui assolutamente e legandomi alla tua presentazione ci sono un paio di cose che volevo dire, innanzitutto l'ultima slide era molto importante perché effettivamente in questo momento c'è stata l'assoluta euforia di gente che ha comprato case con le situazioni di multiple offer andando di parecchi punti percentuali al di sopra del prezzo di listing cosa che presenta un rischio ovviamente che è quello di pagare troppo, poi qui si usa addirittura quello che si chiama l'escalation clause per cui nel contratto si inserisce un addendum che dice che chi sta facendo l'offerta per la casa offre un importo a salire fino a un importo massimo, perlomeno così la scrivo io perché sennò esponi il cliente a tutto ed è fatta in modo che è superiore all'offerta più alta che c'è sul piatto perché in pratica se ci sono due offerte sui 500 mila dollari e il mio cliente mette fino a 600 mila a salire 5 mila dollari a volta quello che l'altra parte deve fare è mostrarmi che ha un'offerta di un certo importo ed è più alta del mio per aumentarla dell'importo fino a praticamente delle aste praticamente sono delle aste ecco per cui l'euforia sicuramente poi devi tenere presente come hai detto tu molto chiaramente i prezzi anche in un mercato come questo che è estremamente alto ed è estremamente seller market quando si parla e e affittuario ma c'è landlord come si dice ehm padroni di casa si può proprietario di immobile sono le due figure in questo momento hanno tutto il potere no però c'è anche da dire che nonostante tutto il mercato ha delle stagionalità e sale e scende poi vi faccio vedere un pochino di cose su questo riguardo per esempio ai periodi in cui ci sono meno persone sul mercato tipicamente al centro dell'estate in florida in cui abbiamo gli uragani ci sono meno buyers in giro che nello spring time che sta quasi per finire per cui e l'ultima cosa che hai detto è straordinario come il mondo degli affitti e il mondo delle vendite siano similissimi perché a livello di statistiche San Diego che tu hai menzionato era una delle prime eh città eh menzionate è la città d'America che ha avuto il più alto incremento di prezzo di vendita di tutta l'America per cui è veramente per cui adesso io provo a fare lo sharing dello screen che aspetta disable participants share screening che lo devo attivare fammi provare aspetta allora ok perfetto e vi faccio vedere un paio di cose sul mercato immobiliare allora come vedete quello che è alle mie spalle è il la zona dove abito Pinellas County in generale qui ehm noi abbiamo è un po' organizzata come Los Angeles qualcuno ci è andato è molto molto estesa e se uno non conosce diciamo la parte legale e logica di County è molto difficile vedere dove finisce Pinellas County che è dove sta St. Petersburg e dove inizia Hillsborough che è dove sta Tampa vi dico questo perché le statistiche che vi faccio vedere ora non sono propriamente Tampa Bay perché Tampa Bay in realtà include Sarasota, Tampa, St. Petersburg per cui tutta Pinellas County, Hillsborough e anche St. Petersburg addirittura Maniti County appunto Sarasota ehm ma vi faccio vedere Pinellas perché è semplificativa di quello che sta succedendo sul mercato allora innanzitutto ehm aspetta che abbasso questo allora innanzitutto queste sono le case in vendita per cui non stiamo vedendo il le case che hanno venduto ma quelle che sono in vendita in tutta Pinellas County per cui ci sono 1.2 milioni di persone che abitano su Pinellas County che è la più popolosa eh county di tutta la Florida ci sono solo 791 case in vendita in questo momento il prezzo medio di queste case in vendita è 858.000 il median price io lo voglio spiegare un pochino cos'è il median price perché a volte mi capita che che altrimenti si confondono le cose tra l'altro scusatemi ma io non faccio business in Italia da 25 anni per cui molte parole non le so proprio tradurre comunque penso si dica prezzo mediano e sarebbe il prezzo al cui al in cui al 50 per cento eh 50 per cento delle case hanno venduto al di sotto di quel prezzo e 50 per cento al di sopra per cui diciamo è un è per questo che è così differente dal prezzo medio poi i giorni sul mercato di media sono 45 ma mediani 50 per cento delle case vende in 20 giorni e a livello nazionale e a livello di Pinellas County il 20 per cento vende in meno di 10 giorni ok allora muoversi scusate ma c'ho le immagini davanti ecco fatto come ops troppo veloce allora vediamo un ottimo la situazione ad oggi questi sono sette giorni fotografia di sette giorni a a questo momento in tutta Pinellas County ci sono 316 listing attivi un altro numero che vorrei farvi vedere questo 432 venduti che vuol dire che stiamo in negativo su l'absorption rate in pratica si assorbono più case nel senso che vengono vendute di quelle che vengono messe sul mercato e questo genera quello che Daniele ha spiegato cioè il feeding frenzy il fatto che ci sono tutte queste persone nel mercato che cercano una casa e come si arriva una casa arriva sul mercato bidding war c'è anche un altro effetto però che del quale è difficile parlare perché ci sono questi numeri così alti no 543 pending 432 venduti e 316 listing cioè quello questo ci sta dicendo che praticamente tutti quanti si accapigliano per prendere le case no hai dato per scontato pending spiega pure pending che cos'è perché noi lo diamo per scontato a volte però perfetto hai ragione grazie per avermelo detto in pratica quello che succede questa è l'MLS e sotto sta alle regole dei che sono imposte ai realtor se io accetto un'offerta per una casa come broker devo in 24 ore metterla sul mercato come pending in pratica è quel periodo pending tra la casa ha accettato un contratto e la casa va al closing per farvi un esempio oggi abbiamo chiuso una casa di remida l'ho saputo letteralmente dieci minuti prima che iniziasse questa conferenza questo questa call perciò non è fra i sold perché non risulta fra i sold in quanto non l'ho potuta mettere non ho affatto in tempo a metterla tra i sold e e perciò risulta tra i pending tra i 543 pending c'è quella proprietà quindi dopo il bidding saranno 542 saranno 542 esattamente per cui ecco quello che volevo dirvi però si sta creando un po una situazione come posso dire di avarizia per cui ci sono dei sellers che sono troppo avidi e mettono la casa sul mercato a un prezzo veramente irragionevole qual è il problema di in quel caso che se il prezzo è irragionevole la gente dice ok io aspetto che cali per cui neanche la vanno a vedere per questo per me è una strategia abbastanza non vincente quella di mettere un prezzo irragionevole in qualsiasi mercato infatti ne parlavamo ieri no che c'è quell'immobile che abbiamo venduto un anno esatto circa no 420 mila dollari l'abbiamo venduto noi insomma ristrutturato a quant'è che era in vendita 650 650 quello è uno di quelli irragionevoli direi no esatto infatti mi arrivano mi arrivano le notifiche di zillo che dicono vuoi vedere quante persone stanno vedendo la proprietà in realtà questi numeri stanno scendendo le salvano che poi quello che sta succedendo anche con alcuni buyers io ho alcuni buyers nella fascia tra uno e due milioni di dollari che mi hanno detto io aspetto fino a che il mercato crolli ecco la realtà è che questo mercato non crollerà come ha detto molto bene daniele e il problema è quanto vuoi aspettare se considerate che in media sono sette anni il periodo in cui le persone vivono nella stessa casa prima di venderla ha senso aspettare perché adesso i prezzi sono alti non proprio vale la pena di vedere le fluttuazioni per cui questo ecco volevo ci tenevo a farvelo vedere un altro indicatore qui guardate i prezzi incrementati cioè che crescono io metto la casa a 100 e poi dico ma no guarda la metto a 110 questo è un price increase mentre invece il price decrease la metto a 140 e mi rendo conto che non la posso vendere a 140 la devo far scendere di qualche cosa ecco qua questi sono gli avari 165 ok allora vi voglio far vedere più informazioni questo è quello che vi dicevo io guardo l'inventario e lo guardo settimanalmente per vedere dove sono i dip perché quello che succede è che quando c'è un dip nell'inventario si vanno a vedere altre informazioni che mi dicano se quel dip nell'inventario è perché veramente ci sono troppi buyer sul mercato per quello che che sta andando avanti o altri motivi ovviamente se devo vendere una proprietà io cerco questa parte qui cerco quando la curva è qui perché mi dice ci sono pochi immobili nel mercato ho un vantaggio se metto un un proprietà una proprietà in vendita ma ora vorrei farvi vedere un altro discorso il guardare un pochino più con attenzione che sta succedendo no nel mercato avete visto prima il discorso di quante proprietà sono sul mercato no adesso vi faccio vedere di queste proprietà che avete visto sul mercato questo è il segmento che la fa da leone perché perché ci sono tanti buyer che cercano in questo segmento lo vedete dal numero di nuove proprietà verso il numero delle proprietà che vengono acquistate per cui nel segmento 350 ci sono 30 proprietà che sono entrate nel mercato e 31 che sono state già assorbite per cui ovviamente questo crea un mercato che è estremamente seller market la stessa cosa con la fascia ancora più bassa ma il motivo per cui è leggermente meno aggressivo questo è perché ci sono veramente poche proprietà in questo segmento in questo segmento ok anche perché vedo un altro dato che conferma quello che dici che è il dato successivo il days on market che è il don che mediamente come vedete è più basso proprio in quella fascia 10 14 giorni sul mercato che è proprio volano quello che dici volano allora qui vi faccio invece vedere la situazione dei prezzi come diceva Daniele ci sono tante cose che che giocano in sono fattori importanti in un mercato immobiliare no uno per per tutti è il prezzo per cui quello che stanno dicendo le persone oh mio dio eh non c'è non non possiamo più permetterci di comprare casa è assolutamente vero perché questo è sono i prezzi dal primo gennaio al diciassette giugno duemilaventi vi faccio una piccola premessa il primo gennaio del duemilaventi io ero a sciare sono tornata al tre e ho detto ho guardato le statistiche di mercato ho detto questo sarà l'anno in assoluto più buono non prendo nessun credito sull'assicurazione sanitaria perché voglio non potrò permettermi nel senso che se prendo il credito glieli devo ridare tutti quando faccio le tasse che cosa è successo nel marzo duemilaventi covid e io pagavo mille dollari al mese di assicurazione sanitaria comunque questo è un altro paio di maniche però però ve lo dico perché è gennaio è stato un mese record avevamo prezzi alle stelle eh salendo del ventuno ventidue per cento rispetto all'anno precedente guardate adesso il prezzo medio è salito del ventotto per cento il prezzo median che sarebbe quello mediano al al di sopra di questo prezzo il cinquanta per cento cioè di questa percentuale il cinquanta per cento al di sotto il cinquanta per cento è cresciuto del dici diciassette per cento per cui immaginatevi essere un buyers su questo mercato no? per forza aspettano cioè eh i giornalisti ovviamente cercano di fare più audience possibile perché non parlano altro che di crolli del mercato e crolli del mercato gli economisti dicono quello che ha detto Daniele ci saranno tre anni in cui il mercato continua a crescere per cui di nuovo giorni sul mercato di media cinquantadue tutto il mercato di quello che è venduto e parliamo e parliamo da gennaio a giugno per cui stiamo parlando di ehm un periodo che aveva covid fino a marzo noi non avevamo gente vaccinata qui ok e adesso ventun giorni di media per cui avrei fatto forza meglio a farvi vedere gli ultimi due mesi che apre tutto un altro discorso oggi come oggi i ehm come oggi come oggi eh il mercato immobiliare mi fa vedere quando faccio un appraisal un lavoro con gli appraiser devo andare a far vedere quelle che sono le pending perché se uno guarda il venduto tra gennaio e giugno che sono i sei mesi canonici ehm il prezzo cambia tantissimo a fine marzo perché in realtà abbiamo soltanto due mesi di venduto da vedere per questo chiedono di vedere anche gli i pending che sono appunto queste queste case che sono sul mercato sotto contratto non si sa quanto venderanno però si ha un'idea perché se sono uscite dal mercato in un giorno vuol dire che hanno avuto ehm le famose multiple offers per cui vuol dire che il prezzo è più alto di quello di listing quindi volevo farvi vedere per concludere il giochino che c'è la aspetta un attimo che devo vedere se riesco ad aprire ok aha devo spostare questo un attimo solo eh allora vi voglio far vedere questo interessantissimo ehm grafico che io uso quando si tratta di ehm valutare il mercato ovviamente non è che me lo devo dire questo grafico che stiamo in uno strong seller market questo è San Petersburg è una zona in cui come vedete rispetto all'ultimo mese il mercato su tutta San Petersburg si sta un pochino intiepidendo ma vi faccio vedere i mh le zone in cui noi noi abbiamo case e comunque intendiamo eh vendere case e il discorso è molto diverso vedete questo numero qui il 30 questo vuol dire che al di sopra di 30 è seller market stiamo a questo numero qua 85% secondo voi è un mercato super super seller market si intende un mercato dove eh l'offerta è minore della domanda praticamente esattamente scusami che non l'ho no no è solo perché no no devi tante cose sono scontate per noi no esatto e eh ricordatevi i prezzi che vi avevo detto no eh su tutta San Petersburg il median listing price che sarebbe il 50% e sopra 50% è sotto è 400 mila dollari ma vi faccio vedere un'altra cosa che è molto carina secondo me eh vediamo un zip code che Daniele conosce ok questa è downtown San Petersburg ok allora vediamo i prezzi di downtown San Petersburg avete visto questo numero com'è cambiato? 875 mila dollari vogliamo vedere i condo che tipicamente i condo sono meno costosi delle case 767 mila dollari ma perché perché quelle che stanno tutte sul front di downtown San Petersburg non ce n'è neanche una in vendita vi faccio vedere il grafico che vi dicevo e anzi facciamo così guardiamo soltanto tre mesi fino a marzo ok 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 questo è fino a marzo vedete la situazione dei dei prezzi qui i prezzi sono alle stelle anzi questo è l'inventorio l'inventario scusatemi vi faccio vedere i prezzi ehm normalmente è esattamente opposto price per square foot sì price per square foot so allora a marzo partiamo il prezzo era abbastanza abbordabile arriva l'annuncio del vaccino siamo qua siamo passati da un prezzo medio di 4,34 a un prezzo medio di 4,83 poi però ci sono tutte le cose no non mi vaccino eh che è tutto inventato le cospitazioni no scende a 4,59 risale per lo spring market a 4,49 scende a maggio perché eh purtroppo è anche una questione di inventario eh c'era un pochino più di inventario e risale e adesso sta in salita a 4,90 ok stiamo guardando ovviamente stiamo guardando downtown San Petersburg che è un mercato veramente molto ehm attivo molto ricercato eccetera eh volevo farvi vedere un'ultima cosa ehm i giorni sul mercato chiamiamo leverage così leverage day on the market siamo partiti a qua che siamo fra i 90 e i 100 siamo arrivati qua che siamo 82 ma attenzione adesso quando vi faccio vedere i median siamo arrivati a cinquantasei sì poi qui parliamo di un mercato che è pure molto più costoso della media quindi sicuramente un po' più lento eh chiaramente straordinariamente se vi facessi vedere come vengono pagate le case di questo ehm di questa fascia di prezzo sareste stupiti più del cinquanta per cento a cash specialmente nel sopra ai milioni di dollari eh cioè la gente quello che avevi detto è la gente imballata di cash eh sì sì poi dopo tutte queste azioni di stimolo insomma ce n'è tanto che dire bene lascio un po' di spazio per le domande che siamo arrivati a grazie Anastasia grazie mille Anastasia interessante come al solito tanti dati oggi abbiamo parlato di un sacco di dati e se volete non so se c'è qualcuno che ha scritto in chat o se volete fare domande anche eh togliendo il muto siete i benvenuti e altrimenti forse abbiamo dato troppi numeri allora direi direi che non ci sono domande così a occhio bene allora per chi dovesse essersi perso delle parti che è entrato un po' più in ritardo ehm lo stiamo registrando quindi eventualmente ehm basta insomma chiedercelo ehm con i soliti canali che sia Facebook o o email ci mandate un messaggio e vi faremo avere il link e lo caricheremo su YouTube e a questo punto niente Daniele se posso dire solo un'ultima cosa perché eh ovviamente hanno tutti ragione cioè noi noi viviamo e respiriamo numeri tutto il giorno per cui ovviamente molta gente ci considera un po' freaks eh però detto questo in due parole questo è un favoloso mercato per quello che sta facendo Remida per due motivi uno per la parte rental ve l'ha detto Daniele è inutile che ripeto anche perché io di rental non è che me ne intenda molto però sulla parte invece vendite i canali che ha Remida per trovare immobili non sono quelli che avete visto sono altri canali per cui in pratica come ho detto Daniele è un po' come il nello stock market no? uno compra a basso aspetta che salga vende ecco non dobbiamo quello che questo mercato ha fatto non dobbiamo aspettare che salga sì tra l'altro grazie per aver tirato fuori una conclusione perché effettivamente abbiamo dato un sacco di numeri è vero sì chiaramente le le tecniche di acquisizione che abbiamo sono diverse dai canali standard altrimenti non non ci sarebbe la possibilità di fare certi margini eh qualcuno di voi magari è stato coinvolto nelle ultime però una delle ultime che era partita quella Orlando che poi Anastasia conosce bene perché ci è andata a fare tutto uno studio normalmente come approcciamo eh al al progetto è che eh tra le varie eh componenti che che ci sono nella progettazione del del dell'affare c'è anche Anastasia che va e ci dà un parere poi di quello che deve essere fatto nell'immobile a fine di ottenere il massimo di mercato quell'immobile lì l'abbiamo comprato a duecentotrentamila dollari qualcosa del genere 225 se non sbaglio con eh la possibilità di rivenderlo a quattro e quasi ecco cinquecento mentre parliamo poi aumenta il valore visto il tempo è aumentato vicino al mezzo milione e con un investimento di ristrutturazione che è sotto i centomila dollari quindi insomma potete immaginare margini molto elevati quei canali che utilizziamo adesso non è sede perché è molto complesso eh spiegare le modalità con le quali acquistiamo che sono un po' diverse da quelle che potrebbero essere applicate in Italia quindi eh si deve entrare un po' nel merito però abbiamo una struttura nostra che si occupa un ufficio che fa esclusivamente acquisizione di immobili e potrebbe essere uno spunto per un webinar dedicato eventualmente se se c'è interesse poi possiamo approfondire un pochino quello quello che fa con l'ufficio è appunto trovare affari particolarmente validi la maggior parte in realtà vengono rimbalzati come contratti ad altri investitori e noi ci teniamo i migliori facciamo quello che in inglese viene chiamato cherry pick cioè ci prendiamo le ciliegine quelle buone eh questo è un po' il sistema diciamo in sintesi in estrema sintesi e bene allora siamo arrivati alle sette che normalmente è l'orario di chiusura dei nostri webinar se no diventano troppo lunghi poi quando ci sono così tanti numeri insomma eh diventano molto intensi e vi ringrazio a tutti vi saluto grazie grazie